L'attualità e le notizie che siamo costretti, il nostro malgrado a raccontare quotidianamente, rivelano problematiche sempre più diffuse relative alla cosiddetta generazione Z. Dipendenze di vario genere caratterizzano la fascia d'età composta da giovani da 14 a 27 anni. Per questo il Rotary Club Cosenza Nord ha deciso di organizzare un incontro formativo e informativo che manda a raccolta esperti del settore. L'informazione è stata forte, il convegno è stato veramente di impatto su delle realtà che viviamo, che vive la nostra società, ma vuole essere anche formativo per fare sì che gli adulti, quindi gli educatori dei nostri figli, noi stessi genitori, le associazioni preposte e le scuole possano essere informate per poter formarsi ed affiancare nel modo giusto i nostri ragazzi, i nostri figli. Giovani continuamente connessi, anzi iperconnessi, un qualcosa che provoca quasi allineazione e che può degenerare nel fenomeno ben conosciuto come cyberbullismo. Sono talmente e continuamente connessi che questo scaturisce in loro un nervosismo tale che non riescono poi ad essere partecipi della realtà della società. Questo provoca in loro un'attenzione che poi si sfocia in violenze, violenze verso i pari, quindi o attraverso i social con la diffusione anche di video, magari non consoni alla rete, ma anche con atti di violenza fisica laddove vengono disturbati nel momento in cui sono attenti alle loro attività.